Nel trentunesimo anniversario della morte di Aniello Giordano, vittima innocente di Camorra, qui intitolato il presidio di Libera ad Eboli, giovedì 20 dicembre a partire dalle ore 18 presso la sala San Lorenzo nel centro storico della città, si condividerà un momento di riflessione importante. Sarà possibile ascoltare la testimonianza di chi si è visto privato della figura paterna per mano criminale. La verità di un figlio è quella che racconteranno, sviscerando le rispettive storie, Michele Giordano figlio di Aniello Giordano e Giovanni Tizian figlio di Giuseppe Tizian. L'iniziativa è organizzata dal presidio di Libera ad Eboli Aniello Giordano con il patrocinio del comune di Eboli.